Non li ha fermati nemmeno la pandemia. Hanno continuato imperterriti a spacciare nella periferia est di Roma, in particolare Torre Angela, dove c'era la centrale di confezionamento. Ma ora il gruppo Casamonica Spada, che gestiva il tutto per conto di Michele Seneso Paz, è stato completamente smantellato dalla polizia. Sei componenti delle due famiglie sono finiti in carcere e due pusher sono agli arresti domiciliari. A finire in manette, Antoni Spada, il capo detto Cucciolo, Alizio Spada, detto Muscolo, il cassiere, e Angelo Spada, detto Pesce, il distributore. In carcere anche due donne, Stella e Ivana Casamonica, che presidiavano il cuvo. Tutti arrestati in flagranza di reato. Sono state trovate anche 40 dosi di droga, tra hashish e cocaina. Secondo la DDA, lo spaccio avveniva sia nei pressi di un bar della Borgata, vicino al parco del quartiere, sia all'interno di un'abitazione utilizzata dagli appartenenti al clan Spada e Casamonica come base operativa per lo stoccaggio e il confezionamento dello stupefacente.